Musica Uomo armato si barica in casa dopo aver minacciato i passanti, paura oggi a Cordovado, cordone di sicurezza attorno alla città, al lavoro per ore le forze dell'ordine. Fusioni tra comuni, il Consiglio regionale del Veneto approva il progetto di legge che agevola le aggregazioni tra municipi, facendo scendere dal 50 al 30% il quorum di partecipazione al referendum consultivo. Aumentano anche gli incentivi, 5 anni in più di contributi statali. A fine ottobre si terranno 4 nuovi referendum di fusione in Veneto. Italvolle in semifinale agli europei femminili. Ieri sera la vittoria per 3-0 sulla Francia. Paola Egonu, Eximoco Conegliano, resta in panchina per Antropova, stella che brilla nel firmamento azzurro. Sanstino di Livenza, focus sulla sicurezza, furti alle auto in sosta, indagano le forze dell'ordine. Eccoci con l'informazione di Media24, ben ritrovati con il TGM. L'avete sentito dai titoli, giornata di apprensione e di grande lavoro da parte delle forze dell'ordine, quella di oggi a Cordovado per un uomo che si è baricato in casa armato dopo aver minacciato in mattinata i passanti. Partiamo da qui il primo servizio, Tania Pellegrini. Paura oggi a Cordovado per un uomo di 62 anni che apparentemente è armato, questa mattina si aggirava in strada torso nudo minacciando e urlando contro i concittadini per poi barricarsi in casa. I negozi sono stati chiusi e le strade sgomberate per ragioni di sicurezza. L'uomo, che parrebbe avere problemi di salute mentale, un ex carabiniere si è asserragliato nella propria abitazione in via Battaglione Gemona, poi circondata dai carabinieri. Erano stati i propri cittadini ad allertare le forze dell'ordine spaventati dalle azioni dell'uomo che si aggirava per le strade a torso nudo con un'arma e non è chiaro se fosse a salve, giocattolo oppure reale. Il paese è rimasto bloccato per un giorno. Il cordone di sicurezza dei militari, che ho adiuvati dalla polizia locale, è stato esteso lungo le vie di comunicazione con San Vito e Morsano Tagliamento, in quanto c'era il sospetto che l'uomo avesse in casa armi e forse anche esplosivi. Presenti anche la Digos, gli artificieri, i vigili del fuoco, un'ambulanza e la protezione civile. In via precauzionale è stata evacuata la palazzina dove vive l'ex militare e le attività commerciali dell'area. Nel frattempo i negoziatori dei carabinieri stanno cercando di convincere l'uomo ad uscire di casa spontaneamente e ad affidarsi alle cure. Presunta violenza sessuale a Bibione. Si continua a indagare. Sentiamo i particolari nel servizio di Rosario Padovano. Sicuramente la violenza sessuale si è consumata, parlano alcuni degli inquirenti che stanno seguendo il caso della ragazza maggiorenne della provincia di Udine che domenica mattina ha segnalato di essere stata oggetto di violenza sessuale. Gli abusi sarebbero scaturiti dopo una nottata trascorsa in spiaggia a dormire da sola. A quel punto il brutto ha cercato di impossessarsi di lei. Lei si è ribellata però ha subito dei toccamenti nelle parti intime per cui la violenza sessuale si è appunto manifestata in questo modo. Tecnicamente non dovrebbe essere stato uno stupro ma faranno fede eventualmente gli esami ginecologici a cui tra l'altro i carabinieri non possono ancora accedere. È necessaria la denuncia della ragazza che non è stata ancora presentata. In questo momento la giovane sta affrontando un percorso psicologico ma ancora non si è presentata per formalizzare quella che dovrebbe essere un atto dovuto un atto che senza il quale non permetterebbe agli inquirenti di procedere. È normale tutto questo? Forse l'indagine d'ufficio dovrebbe scattare ugualmente. Trieste, un ragazzo è stato soccorso questa mattina dal personale sanitario per le ferite riportate a seguito di un incidente sul lavoro. Secondo le prime informazioni, mentre stava scaricando del materiale da un camion per caso in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine è stato urtato da una vettura e ha riportato un trauma a una gamba. Dopo la chiamata al numero unico di emergenza, gli operatori della sala operativa hanno transitato la telefonata alla struttura operativa regionale sanitaria emergenza. L'infermiera ha inviato sul posto l'ambulanza, il personale ha caricato il ferito non in gravi condizioni, trasferendolo all'ospedale. San Stino, si accendono i fari sulla sicurezza dopo diversi furti e alle auto in sosta. Sentiamo. Non si ferma l'offensiva dei ladri a San Stino di Livenza. Dopo il colpo messo a segno da una banda specializzata nelle casse dei festeggiamenti della Madonna d'Agosto, la sagra del paese di La Salute, i gnoti hanno violato molte automobili in via Buozzi e nei dintorni, anche nelle corti condominali. Le lamentele hanno raggiunto i carabinieri che stanno approfondendo la questione dopo aver avviato delle indagini a seguito di qualche denuncia. Un colpo sicuramente diverso nella tecnica, quello alle auto in sosta, rispetto alla frazione. Esistono quindi due bande, questa l'ipotesi, che serpeggia tra gli inquirenti. San Stino in preda alla paura. Occorre subito una sterzata per tranquillizzare la gente. Proseguono senza sosta i controlli della questura a Mestre, in particolar modo nel famoso quartiere Piave. Il servizio Interforce ad alto impatto, assieme alla polizia locale e ai carabinieri, si inserisce nell'ambito di un quadro generalizzato di potenziamento dei dispositivi di prevenzione e monitoraggio. Nell'ultima operazione sono stati effettuati numerosi controlli nelle aree sensibili del quartiere e in tale contesto sono state sottoposte a controllo più di 60 persone e 6 esercizi commerciali, al cui interno sono stati controllati più di 40 clienti. All'aeroporto Marco Polo invece accade che un passeggero preso dalla voglia di fumare valica anche il passaggio al momento non consentito per la pista di atterraggio e decollo. Per lui una multa da 2.000 euro. Quella voglia di accendersi a tutti i costi una sigaretta gli è costata alla fine una multa di 2.000 euro. All'aeroporto Marco Polo di Venezia la polizia di frontiera ha pizzicato un passeggero turco in partenza per Istanbul colto da un'improvvisa crisi d'astinenza di nicotina, tanto da forzare le porte airside per recarsi nei pressi della pista di decollo e atterraggio per fumare. Inevitabile per lui la sanzione. È in aumento, fa sapere la questura lagunare, il numero di viaggiatori sanzionati proprio per aver fumato nelle zone dello scalo veneziano in cui è espressamente vietato farlo. 2.000 euro è la somma che viene cominata a chi più in generale forza le porte airside senza esserne legittimato. Un simile episodio è accaduto pochi giorni fa. Una giovane coppia, spinta dalla medesima esigenza, aveva forzato le porte di ingresso spostandosi in luoghi in cui è severamente vietato accendere la famosa bionda. L'utilizzo di sigarette, anche se elettroniche, all'interno delle infrastrutture aeroportuali è consentito esclusivamente in apposite aree ben delimitate e segnalate con apposito cartello di autorizzazione. Trattasi di uno spazio non presente in tutti gli aeroporti. Pertanto, prima di accendersi una sigaretta, è necessario verificare la presenza di un luogo riservato ai fumatori. Sabrina Ross è psicologa. La dipendenza da nicotina che addirittura spinge a forzare un'entrata in aeroporto verso la pista di atterraggio de collo e de collo perfumari, come abbiamo sentito nel servizio. Non è l'unico caso, diceva oggi la questura, perché sono ormai diversi gli episodi di questo tipo. Cosa scatta in questo senso? Buonasera, innanzitutto. Scatta lo stesso meccanismo che scatta per tutti gli altri tipi di dipendenza. Ecco, la nicotina dal punto di vista sociale probabilmente non è vista con la stessa disapprovazione che magari suscitano altre sostanze, eroina o alcol ad esempio, ma la nicotina è una sostanza che provoca una dipendenza organica molto marcata al pari delle sostanze che ho appena citato e inevitabilmente si ripercuote anche sul comportamento. Quindi la compulsione ad accendere la sigaretta, perché poi diventa quasi un atto compulsivo l'accendere la sigaretta, il portarla alla bocca. Vi è la dipendenza organica, ma vi è anche la dipendenza dal gesto. Per cui molti fumatori affermano avere tra le mani la sigaretta, potermela accendere, mi rilasso ancora prima di averla fumata. Ecco, quindi è una dipendenza vera e propria che va trattata e curata come tutte le dipendenze. Fortunatamente dal punto di vista psichico, a livello comportamentale, si manifesta semplicemente con l'esigenza estrema di averla e quindi di fumare una sigaretta. Non vi sono evenienze, non ci sono riscontri sul fatto che possa ledere la capacità di interagire e l'esame di realtà viene mantenuto inalterato a differenza di altre sostanze che ben sappiamo, come ad esempio l'alcol. Quindi si può guidare l'auto anche se si sono fumate 30 sigarette. Diciamo che a livello organico ben sappiamo quali sono i danni. A livello comportamentale sicuramente possono manifestarsi anche degli atteggiamenti che rasentano l'illegalità pur di procurarsi il fumo, anche se in realtà tutto sommato, fortunatamente non sono così frequenti come i danni che si verificano in altre circostanze. Senta, esiste ancora lo stress di rientro dalle vacanze? Beh, effettivamente lo stress da rientro... Perché se ne è parlato in passato ma se ne parla ancora. Certo, diciamo che le vacanze dovrebbero rigenerare e rilassare. Molto spesso rientriamo, un po' tutti, un po' tutti ci lasciamo cogliere da quello che lei ha definito uno stress, rientriamo in realtà più stanchi di prima. In realtà non si tratta di una stanchezza, ma si tratta di una difficoltà a riprendere i normali ritmi della vita quotidiana. La vacanza ben sappiamo che è una parentesi, una parentesi felice dove si dovrebbe, spesso ci riusciamo a lasciarsi un po' alle spalle, tutte le problematiche legate al lavoro, ad esempio che oramai diventa una ricorsa quotidiana in appuntamenti e ritmi che talvolta non sono, non corrispondono molto a quella che dovrebbe essere la vita. Ecco allora che rientrare dalle vacanze, soprattutto se magari si è soggiornato in una località turistica che rende ancora di più questa immagine di vista totale, magari lontana, diventa sempre difficile riprendere. Ecco senza far scocciare ciò in una patologia, anche se abbiamo riscontrato stati d'ansia e talvolta anche stati depressivi che si sono manifestati in seguito al rientro delle vacanze, io consiglio di riprendere le normali attività per quanto possibile in maniera tranquilla, con calma, sapendo che comunque abbiamo avuto la possibilità di godere di tempo per noi e per la nostra famiglia e che comunque la realtà è anche quella di una ripresa del lavoro. Sicuramente la vita quotidiana dovrebbe rendere i ritmi più umani. Più umani, grazie Sabrina Rosso. Grazie a voi. Continuiamo il telegiornale, parliamo di fusioni dei comuni perché in Veneto sarà più facile ottenere appunto questo nuovo strumento che sta comunque catalizzando l'attenzione sul fronte dei risparmi ma anche dei contributi statali per i comuni più piccoli che decidono di fondersi. Fusioni tra comuni più semplici in Veneto. Il Consiglio regionale ha approvato il progetto di legge 185 che agevola le aggregazioni tra municipi facendo scendere dal 50% al 30% il quorum di partecipazione al referendum consultivo. Una recente relazione della Corte dei Conti ha affermato che l'aggregazione tra i comuni di piccole dimensioni comporta indiscutibili vantaggi sul piano organizzativo, ha commentato Antonio Ferrarelli, presidente della fondazione Think Tank Nord-Est, a cui si aggiungono i cospicui incentivi statali erogati per cinque anni. Secondo un'analisi della stessa fondazione, in Veneto le fusioni sono già state premiate con oltre 65 milioni di euro di contributi statali dal 2014 ad oggi. Ebbene, nonostante la convenienza economica, oltre la metà delle proposte di fusione è stata finora respinta. Ben 15 su 29 hanno fallito il test del referendum. Sono quattro le nuove proposte di fusione con referendum previsto in Veneto il 29 e 30 ottobre. Guarda Veneta e Polesella nel Rodigino voteranno per l'istituzione di Polesella Veneta. Carceri e Vighizzolo d'Este in provincia di Padova andranno al voto per unirsi eventualmente nel nuovo comune di Santa Caterina d'Este, Gambugliano e Sovizzo nel Vicentino. Infine Querovas e Alano di Piave in provincia di Belluno ambiscono a formare un'aggregazione denominata Setteville. In caso di successo di tutte e quattro le consultazioni, il numero dei comuni in Veneto scenderebbe a quota 559. Salgareda scatta l'emergenza sulle truffe dello specchietto. Rosario Padovano. Ancora casi di tentata truffa dello specchietto, fortunatamente non è data a buon fine, si registrano a Salgareda. Lo ha confermato anche il primo cittadino. Ieri in un post sui social, infatti, l'amministrazione comunale ha messo in guardia la popolazione dai possibili rischi che si presentino questi fenomeni. La scorsa settimana, proprio mercoledì, un uomo di 87 anni aveva sventato la truffa segnalando due automobili. Una presentava la targa del Belgio. Rientriamo in studio, con noi c'è Anita Fiorentino, che è coordinatrice del Movimento 5 Stelle a Portogruaro. Ben ritrovata. Buonasera a voi, ben ritrovati. Stiamo, insomma, ormai da giorni sentendo diverse posizioni sulle amministrative a Portogruaro, ma in generale, insomma, sulla politica locale, perché anche se agosto sta per finire, c'è fermento. Lo stesso, anche se nessuno si sbilancia con dei nomi, chiaramente ufficiali, ma le riunioni ci sono e anche, insomma, i nominativi che circolano poi si fanno sentire. Abbiamo parlato con Silvia Reghini di un'eventualità Antonio Bertoncello per il centro-sinistra. Cosa ne pensa, visto che in questo ipotetico campo largo auspicato dal centro-sinistra, gioco forza, ci sarà spazio anche per il Movimento 5 Stelle, in teoria? Ma diciamo che i nomi se ne stanno facendo, come ha già detto lei, nomi se ne sono fatti un po', e sono sempre del parere che devono essere concordati questi nomi. Cioè, non basta che la segretaria, la Silvia Reghini, esprima il suo parere, ma bisogna poi, visto che ci sarà comunque un campo largo, che tutti i componenti di questo campo largo possano esprimere il loro giudizio. Per onestà intellettuale è stata una risposta di Silvia Reghini a una mia domanda precisa su un'eventualità Antonio Bertoncello, non è che lei magari si è presentata e ha detto Antonio Bertoncello, giusto per la cronaca. Perfetto, ma ripeto, nulla contro Antonio Bertoncello. È stata sua consigliera. Sono stata sua consigliera, con molto, chiaramente, con molto piacere. Sono stata sua consigliera, una persona che stimo tantissimo, è, come si suol dire, un usato sicuro, ma veramente sicuro, un ottimo amministratore. Però, insomma, adesso dobbiamo andare avanti, dobbiamo guardare comunque figure giovani, non che essere giovani è un valore aggiunto, ma comunque giusto per avere un attimino di novità. Dopo questi anni bui, io li ho visti anni bui, prima con la sindaca, senatore, poi con Favero, dimesso sì, perché chiaramente la sua maggioranza lo ha fatto dimettere. Quindi dopo questi anni lui... Sì, è stato sfiduciato in Consiglio Comunale. Esatto, esatto, esatto. Ma voglio dire, è sfiduciato dalla sua stessa maggioranza, alla fine, perché voglio dire, l'opposizione ha fatto l'opposizione. Ha fatto l'opposizione, dice lei. L'opposizione. La sua maggioranza, chiaramente, ha fatto in modo che, chiaramente, lui andasse via. Quale sarà il ruolo del Movimento 5 Stelle? Il luogo del Movimento 5 Stelle è quello che comunque fa di vigilare, in realtà, su quelle che sono, sia saranno le dinamiche che verranno a crearsi, chiaramente, nelle amministrative, e chiaramente cercare di essere parte integrante di una maggioranza. Farete una lista? State pensando a una lista? Ma sì, sì, sicuramente una lista ci sarà, una lista ci sarà sicuramente del Movimento 5 Stelle e probabilmente andremo con il nostro simbolo, perché non abbiamo nulla da vergognarci, quindi sicuramente andremo con il nostro simbolo. È scontato che tutto questo centro-sinistra, il campo largo, anche vadano alla fine tutti assieme, oppure perché si parla di un centro-destra che ha delle divisioni all'interno, però anche nel centro-sinistra bisognerà vedere poi alla fine? Ma diciamo, io non posso adesso dire se andrà diviso o andrà unito, e chiaramente io mi auspico che possa andare unito, perché unito si vince. Quindi in questo momento non si può dire nulla. Ripeto, quando chiaramente ci saranno gli incontri e quindi si andrà a verificare quella che sarà la figura del candidato sindaco a quel punto lì, perché noi cercheremo di fare la nostra parte, di essere parte integrante di una maggioranza di centro-sinistra. E poi chiudiamo la lacuna più grande, al momento per Portogruaro? Cioè che cosa ha bisogno fin da subito questa città, secondo lei? Ma allora, Portogruaro, in questi ultimi sette anni, non c'è stato null'altro se non un tornare indietro. Cioè ricordiamo quello che con le maggioranze di Antonio Bertoncello era stato fatto per Portogruaro. In realtà i governi centro-destra a Portogruaro in realtà non hanno fatto altro che distruggere ciò che di buono era stato fatto dalle precedenti amministrazioni e sicuramente quel poco che hanno fatto, l'hanno fatto poco e male. Bene, ci torneremo sull'argomento. Grazie a Anita Fiorentino. Grazie a voi, buonasera. Andiamo a Cavallino Treporti. 13 nuovi ambasciatori del turismo per la località balneare che supera le 6 milioni di presenze. Saranno promotori della città presso il proprio territorio di origine. La consegna degli attestati nelle ultime ore. Gli ambasciatori del turismo nascono nel 2016. È un momento in cui l'amministrazione, assieme a Parco Turistico e a Dassault Camping, riconoscono presentati dalle strutture stesse quelle persone, quegli ospiti che vengono a Cavallino Treporti ma ci vengono da molti anni e quindi diventano un elemento di riferimento per il turismo di Cavallino Treporti. Sentono un po' Cavallino Treporti come una loro seconda casa. La nostra generazione crede molto nelle istituzioni. Quando senti gli inni nazionali, quando senti parlare di ambasciatori, è una cosa che ti colpisce molto, che colpisce il cuore. In più sapere che queste persone si mettono a disposizione, vengono qua da tanti anni con le loro famiglie, amano questo territorio come la loro casa, questo ti riempie il cuore veramente. Da veneziano perché mi sono sempre trovato benissimo qui per tantissimi motivi, uno tra i quali la vita del campeggio ti porta a stare insieme a tante persone diverse. a tante nazionalità e impari molte cose. Fì da bambino ho costruito la mia personalità visitando questi luoghi. Le piogge estive, comprese quelle degli ultimi giorni, sono state benefiche per il riso in Veneto, che conta su una buona annata per dimenticare la difficile stagione 2022, contrassegnata, lo ricorderete, dalla siccità e dalla risalita del Cuneo Salino nel delta del Po. La prossima settimana si comincerà a raccogliere la varietà Vialone Nano a Isola della Scala nel Veronese, mentre per le altre tipologie si dovrà attendere fino a ottobre. Secondo i dati di Veneto Agricoltura, la superficie regionale coltivata a riso nel 2022 è scesa a circa 3.000 ettari. Il 90% degli investimenti si concentra nel Veronese e a seguire il Rodigino. Rapporto tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Ne ha parlato il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordini. Siamo a Manafesta, comune di San Michele a Tagliamento, con il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Totoro Bordini. Lei è un ritorno a casa in realtà, perché la mamma tra Fossalta e San Giorgio, oggi lei abita a Palazzo Roto, nello stesso territorio di Cerniera, che deve avere un significato di un migliore rapporto tra Veneto e Friuli, non solo nel settore linguistico dove le sede sono state fatte tra le due giunte, ma anche in altri settori. Oggi è la festa dell'emigrazione della friulennità. Viva l'uva, ma la festa. Sì, essendo due regioni confinanti, territori di confine, è evidente che ci sono le contaminazioni. Il mio cognome Bordini penso che faccia comprendere anche quali sono le origini più antiche dei miei avi. Anche io, da parte di papà, ho tutto sommato originario del tuo nome di papà. Mentre per quanto riguarda la mamma, come si diceva, Fossalta e San Giorgio a Tagliamento, e San Giorgio a Tagliamento, è in realtà poi un paese a cui sono molto legato, perché fino a quando ero adolescente ci passavo almeno un giorno a settimana per trovare la nonna, conoscevo amici e frequentavo. Quindi anche quando vengo, devo dire la verità, anche attraversando queste strade, questi posti, ho sempre un po' un mabone di emozioni, perché ti vengono in mente tante cose quando sei piccolo con i tuoi genitori, la nonna, gli zii, la festa, la festa San Giorgio, sono tanti piccoli episodi che ti vengono in mente, quindi il rapporto 100. Dopodiché, Veneto e Friuli collaborano già, collaborano e credo anche abbastanza bene, bisogna naturalmente intensificare questo rapporto sicuramente, però sia con il consigliere Barbisan, anche con cui ho un modo di interfacciarmi da tanto tempo, con il sindaco, anche con il sindaco precedente, quando c'erano occasioni ci si confrontava, c'era un tagliamento in comune tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, quindi non sono mancate e non mancheranno naturalmente le occasioni di collaborazione. Dal 1 settembre andiamo in Veneto orientale, Antonella Toneto sarà la nuova direttrice della pediatria all'ospedale San Tommaso dei Battuti di Porto Gruaro, questa mattina nella sede centrale dell'Ulss, la dottoressa ha incontrato il direttore generale Mauro Filippi e ha firmato il contratto di incarico all'Ulss 4, da 11 anni è responsabile della patologia neonatale all'ospedale di San Donato di Piave. Italvolley in semifinale agli europei femminili, ieri la grande vittoria delle Azzurre per 3-0 contro la Francia con la ex Imoco Conegliano, Paola e Gonu in panchina, ma le Azzurre fanno sognare. Giù le mani da Paola e Gonu. Italia ancora deludente per certi versi nei quarti di finale contro la Francia, battuta per 3-0, il settimo 3-0 consecutivo, ai quarti di finale dell'europeo. Eppure i margini di miglioramento sono sempre alti. Infatti, Paola e Gonu resta in panchina, malauguratamente, come sottolineano molti tifosi dell'Imoco Conegliano, che hanno nel cuore la giovane giocatrice di Galliera Veneta, nativa di Cittadella. Il CT Mazzanti, anche contro la Francia, è ricorso a Paola e Gonu quando era in difficoltà. Ma una come Paola e Gonu non è una riserva di lusso e merita rispetto. Ha vinto tre delle ultime quattro edizioni della Coppa dei Campioni con tre club diversi, Novara, Imoco, Vakif Bank. Eppure la donna che segna 30-40 punti a partita è relegata in panchina ed entra solo in caso di bisogno quando la squadra non gira. Tifosi dell'Imoco furiosi con l'ex allenatore Mazzanti. E adesso, se capitasse la Turchia di Santarelli, ne vedremo delle belle venerdì prossimo. Il Cielo di Jesolo è pronto a ospitare l'edizione 2023 dello Jesolo Air Show, la manifestazione aerea che festeggia 25 anni e che rappresenta quest'anno l'unica tappa veneta in occasione della celebrazione del centenario dell'aeronautica militare. Lo spettacolo si svolgerà sabato 2 settembre e sarà possibile seguirlo gratuitamente lungo tutto il litorale da Piazza Mazzini a Piazza Marconi. Inizio alle ore 15.30 lo spettacolo aereo parteciperanno 13 equipaggi tra cui, come vediamo in foto, le frecce tricolori italiane ma anche le pattuglie francesi e svizzere. Sono invece attesi circa 300 partecipanti alla regata Isontina aggiunta quest'anno alla 38esima edizione. L'appuntamento invece è domenica per la registrazione degli iscritti e tra le 9.30 e le 10.30 sotto la diga di Salcano mentre la partenza sarà alle 11.00. L'arrivo delle imbarcazioni al Parco di Piuma è previsto tra le 12.00 e le 13.30. A seguire ci si sposterà nuovamente a Salcano al Kayak Center per le premiazioni. L'evento è stato presentato proprio in queste ultime ore. Era questa l'ultima notizia grazie per averci seguito vi lascio come sempre le nostre previsioni del tempo a seguire la rubrica la parola A condotta da Stefano Boscariol e poi ancora approfondimenti dal territorio e alle 22.00 da non perdere come sempre il grande film il cinema su Media24 arrivederci a Grazie a tutti.